Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo su Uncharted 2 per continuare la nostra avventura Nello scorso episodio ragazzi ci siamo trovati in questo monastero, raga è veramente stracolmo di mercenari nemici Ora dobbiamo andare contro dei cecchini che ci stanno puntando malamente e dobbiamo andare a scoprire che cosa ci aspetta Quindi non perdiamo tempo ragazzi, cominciamo subito Ok come vedete ci sono i raggi laser rossi che sono quelli dei cecchini, dunque se non mi sbaglio esatto, devo dare, devo fare da scaletta Elena Ecco qua Ok spingiamo su Elena sperando che non la ammazzino Ragazzi è veramente stra stra pieno E non c'è verso di colpirli raga Ok quindi io salgo Madonna, sti cazzo di raggi laser mi danno un'ansia della madonna Ok qui sarei stato molto 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 più contento Se mi avessero dato qualcosa Oddio Ma ci sono nemici anche qua dentro cazzo Se mi avessero dato un dragon of raga qui sarei stato molto molto più contento eh Lo dico proprio con tranquillità Ok proviamo Ok correre di qua Oddio Oddio santo Mamma mia raga Ok Ce n'è un altro lì eh Ok è andato Allora qui Esatto Munizioni Oddio Oddio Madonna santissima raga C'è da stare veramente molto molto attenti qui a dove si cammina eh E' un attimo essere presi dai cecchini Ok qua siamo su Dunque vediamo un po' Qua c'è ancora il gentaglia Pare di no Spero raga di trovare tipo un dragon of qui sopra Qualcosa Per sparare sulla lunga distanza Ok vediamo un po' Ancora niente E' vero che noi ci stiamo avvicinando però raga E' sempre abbastanza difficile colpirli là Cazzo Mamma mia raga ok Dobbiamo attraversare il ponte Non possiamo uscire ora Quei cecchini ci farebbero a pezzi E quindi cosa facciamo Credo ci sia un fucile da cecchino lassù Oh grande mezzo Quindi dobbiamo soltanto trovare come salire Eccolo lì raga Perfetto Abbiamo trovato il dragon of Dobbiamo cercare un modo per salire Oddio Ho sentito un suono brutto 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 Ok raga Penso di aver trovato un modo per salire Andiamo a scoprirlo insieme raga Ok Oddio santo Mi son visto per terra Laggiù raga Là Ok Allora vediamo un po' Nera quanti fucili Perché ci sono delle altre travi però là Allora raga io provo a togliere di mezzo Madonna santa mi son cagato Merda che cazzo Ok allora dobbiamo stare Due Ok Madone Merda rega È venuta giù tutta la torre Headshot bitch Headshot bitch Ok raga Perfetto Allora qui Dobbiamo stare un po' Attenti Perché C'è veramente Parecchia Parecchia Gente Ok Tra l'altro devo stare intanto Anche attento ai raggi laser Perché Se mi beccano Diciamo che Non è la cosa più piacevole Del mondo Merda L'ho cannato questo raga Eh questo l'ho cannato Tra l'altro Non ho nemmeno più colpi Cazzo Ok raga Allora La situazione è un attimo tragica Qui c'è un altro No non c'è un altro cecchino L'unico cecchino è lì davanti raga No ho visto delle munizioni Muniz Ok Nove colpi raga Dobbiamo utilizzarli al meglio Togliamo dalle palle Quei cosi Brutti là in fondo Perfetto Ok Ancora un paio raga Ancora un paio Ultimo Dai Perfetto Dovremmo Dovremmo aver Fatto raga Dovremmo aver fatto Non vedo più Raggi laser Sembra tutto pulito Io a questo punto Riprenderei Il nostro M4 Ah qui c'è Eh qui ce n'era un altro Ok 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 raga Qui ce n'era un altro Allora Volevo anche controllare Un attimino Qui all'esterno Se ci sono tesori O cose di questo genere Qua effettivamente Non ne vedo Perché mi sembra strano Che ci siano le cose Per arrampicarsi Anche di qua Mi sembra veramente Molto molto strano Ok vabbè Niente Allora mi sa che Dobbiamo tornare giù Ok magari Un po' più di qua Perfetto Ok Elena Noi ci siamo Le muniz Ce le abbiamo Possiamo andare Mmm Ma com'è Ma com'è sicuro Questo ponte Regà Mmm Ok raga Vediamo un po' Perfetto Allora Li abbiamo Trovati Merda Così Lei corre Merda Sto ponte qui Eh lo sapevo Stai bene Sì Sto bene ma Guarda regà Crash Bandicoat Merda 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 Oddio Ve ne ho ricordato i livelli sui ponti Regà di Crash Si sono qua Sì sono qua Peso Arrivo Oddio santo Dai Nate Dai Nate Forza su Su Nate Su Forza e coraggio Che la vita è proprio un passaggio in questo caso Madonna santa Non regge più un cazzo No raga Eh si è spezzato tutto Dai Ok Merda Merda Ok sali Santo Dio Santo Dio Due volte Ok Merda No raga Cioè Così è un po' esagerata la situazione però Ok dai Dai che siamo su Dai che siamo su Raga Dai che siamo su Dai che siamo su Merda Oddio Assurdo raga Al pelo di brutto E qui in boscata sicuro ci prendono Figa Al pelo Ok no Pensavo si sarebbe aperta questa porta C'erano i nemici E ce l'avrò catturato Invece no Ok dai 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 Ok Un po' di potenza E siamo dall'altra parte Boh Saliamo raga Vai attenzione Dietro di te Ci sei tu dietro di me no Ok perfetto Stiamo avvicinando Ok Allora Vediamo un po' Indietro Merda raga Qui mi sa che è strapieno eh State in guardia State allerta È pieno raga Strapieno Non lo so Credo li tengono la sua Ok Allora Il fatto è che sono belli inguacchiati Non mi sembra di vederli Quindi io Comincio a scendere Minchia Nemmeno ho fatto il tempo a dirlo raga Ok uno è giù Allora utilizziamo un po' la pistols Raga Perfetto Merda Ok Ok un altro Cos'è Perfetto Allora Rega A chi spari Oh merda Santissima Dove cazzo Porca di quella puttana Oh bro Dove cazzo pensi di essere Ok Ok qua ci siamo Oddio 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 Scendi 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 Minchia grande Elena comunque Cattivissima Eccolo Ok Ci riproviamo raga A salire Merda L'immortalità Raga L'immortalità Ok Siamo su Vediamo un po' Eh raga La vedo La vedo abbastanza tragica Qua eh La vedo tragica Sono sincero Merda Non crepano eh Ce ne vogliono di colpi Ok Questo land C'è un altro raggio laser Che non mi piace per niente Ok 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 raga è veramente Stra Stra Pieno Di cecchini E raggi laser vari Quindi devo stare molto molto attento Col cazzo Col cazzo che ti faccio tirare la granata Ok raga Pare che abbiamo ripulito la zona Però sono veramente A corto di proiettili Quindi devo cercare Merda Un'arma seria No Tutte quelle con pochi colpi Cazzo Allora Provo a scendere di qua Raga Vediamo un po' Non vedo niente di che eh Sinceramente Ok Niente tesori Niente di niente Ok Munizioni Per la pistola Vabbè Meglio che niente Raga a sto punto Faccio un po' Incetta di munizia Raga Perché se no Qua non andiamo più Da nessuna parte Ok Munizioni No Spass no Voglio il mio M4 Ok Un po' di munizioni Regale abbiamo trovato Effettivamente Ok Ok raga Proseguiamo Ok Proseguiamo Raga Ok Vai Tieni Tieni Mela aperta Magari un attimino Merda Grazie per la collaborazione Ok Merda Quella scala libera In alto eh Rega Ok Facciamo scaletta Elena Basta l'uscita Antincendio Ok Ok Spero che regga Innanzitutto Ok è arrivato La subutalo di sotto Perfetto Sì sì Allungabile Ok molto bene No che cazzo Non dicevo letteralmente Aspetta indietro indietro Ok ok Non dicevo Letteralmente Che pro cazzo Ok Noi ovviamente Dobbiamo sempre fare Tarzan Rega perché se no Perché se no È troppo semplice Ce la fai a resistere Ce la Sì carina Dai 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 Ok Perfetto rega Grandissima Elena Mamma mia Collaborazioni spettacolari Eh rega Ok Oh santo dio Certo che anche lei Che è una donna Riuscirà a fare ste cose Vabbè Rega Ho sentito un suono Tipo bruttissimo Come un rindio Ok Ehi ehi Sss Tenete gli occhi aperti Va bene Tieni giù la testa Dai avvicinati bro Avvicinati Avvicinati Hop Ok rega Gli altri si sono allertati Però Stacchi qui È stata fenomenale Merda c'è uno con lo scudo C'è uno con lo scudo Rega Eh sì Allora Facciamo magari Tipo così Perfetto rega E ora si può salire E ora si può salire Più o meno Ok Un andato Merda Questo rega Picchiava a sodo Eh Ok Allora Direi di pigliarmi Sullo scudo Perfetto E mi do una controllata Qui sopra Con tutta tranquillità Proprio In teoria Oddio Oddio santo Eh ciccio Mi piace lo scudo Antisommossa Eh bello bro Ok Ok Scendiamo magari da qua Per fare un po' prima Ovviamente vabbè L'ha mollato ma Munizioni innanzitutto E scudo Andiamo Andiamo a fare i big culi Rega Qua si spaccano i culi A manetta Ovviamente adesso Fare un filmato Non ci sarà più nemmeno Un nemico Però io ci voglio Voglio sperarci Ah ecco no Vedi Ok Allora Vediamo un po' Da che parte bisogna andare Sicuramente di qua Quindi io vado a controllare Prima di qua Vediamo un po' Do una controllata veloce Triangolo Qui c'è la prima Triangolo Rega Quindi vuol dire Che bisogna andare di qua Effettivamente Allora abbiamo Una controllata In giro Come sempre Che lo sapete Che le esplorazioni Fanno bene Ad anima e corpo Qui c'è un pezzo Giù dove mi ispirerebbe Scendere per trovare Un diamante Un tesoro Scusatemi ma Non vedo né tesori Né un cazzo Quindi niente Vediamo un po' di qua Se c'è qualcosa Niente Nemmeno di qua Merda raga In questo capitolo qui Gli hanno infrattati Proprio bene I tesori Non c'è niente da dire Non c'è assolutamente Niente da dire Gli hanno infrattati Veramente alla grande Ok Vediamo un po' Deve essere dove tengono Schaffer Così Merda Così Da nulla Oh merda Ecco Lo sapevo io Che lo scudo serviva Me lo sentivo Ok Quello lì Dovebbe essere giù E ci siamo Merda 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 Muoio Muoio Ok raga Al pelo Al pelo Come il nostro solito Ma ce l'abbiamo fatta Siamo ancora Miracolosamente vivi Ok Così Oddio Wallbang Ok Anzi Corri mano Bang Più che altro Merda Questo è grosso Raga Però Gli togliamo il casco Ed è fatta Ok Zona sembra Sgombrata Per il momento Prendiamo su Munizioni varie Oddio Ho sentito Un'altra voce Ma da dove Da sopra Sicuramente Eccolo Mamma mia Grande Elena Grandissima Ok raga Dobbiamo salire Sicuro Merda Muorici Subito In questo momento Ok Merda Ok 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 Oddio Ma perché c'è un RPG Boh io lo prendo Raga Così Per sport Così per sport Raga Qual è andato Elena comunque Comunque non è inutile Raga Spara Merda 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 Ok con calma Con calma Con calma Con calma Perfetto Qui c'è un RPG Ma non penso che serva In teoria Ok ok Raga Ok ci siamo Oddio Oddio Raga Ma stiamo scherzando Ma non mi puoi venire così Merda Grande Elena Merda 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 Ok Madonna Raga Così da vicino Mi sono proprio cagato sotto Sono sincero Eccoli Eh no Stavolta ero preparato Bro Ok 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 raga ci siamo Siamo dall'altra parte Dobbiamo salire di qua sicuramente Andiamo su Oddio Qui vedo tutto distrutto Qui vedo tutto distrutto Quindi sicuramente No Niente parkour No l'hanno ammazzato Ok no è vivo È vivo raga È vivo Avevi ragione Su cosa Tutto quello che tocchi Va a buttare Ok dai Partiamo fuori di Minchia Che facciamo Che pro nonnetto Raga La mia spedizione Sì l'ho trovata Capisci cosa dovevo fare Sì Se avessero trovato la pietra Avrebbero cambiato il corso della storia Merda raga Assurdo Ok Dio bono Lo fermeremo bro Non ti preoccupare Tu ti devi ripigliare L'abbiamo trovato raga Siamo Siamo a meta E distruggi la pietra Prima che cada Nelle sue mani Drake Dobbiamo distruggere la pietra Merda raga Assurdo Poverino cazzo Poverino cazzo Che scelta abbiamo L'hai sentito Pensi che quello che ha detto Sia la verità Non avrebbe mentito In punto di morte Dai Ma ci credeva È abbastanza per me Esatto Grandissimo Nate Grandissimo Veramente Meriterebbe una degna sepoltura Raga ma non abbiamo assolutamente Il tempo materiale Non abbiamo il tempo materiale raga È meglio dividerci No che cazzo dici No ascolta Io cerco di scovare Questa è fuori Tu invece vai alla torre E provi a riprendere quel pugnale Vista in questo punto Ci può stare Ma Tu occhi aperti E resta in contatto radio Sì Ok Dai raga C'è ancora un po' di tensione Fra i due Uh nevica Signori Veramente episodio Fantastico Abbiamo perso Purtroppo Un amico Un maestro Ragazzi Un maestro di vita Perché queste sono le persone Da cui bisogna trarre esempio Per vivere in pace Con se stessi Raga Nel prossimo episodio Ragazzi Sicuramente Cercheremo di recuperare Il pugnale E andare a distruggere La pietra cintamani Quindi mi sa che signori Siamo vicini ormai Alla fine Del nostro Gioco E sono dispiaciuto Ragazzi Perché è stata un'avventura Veramente fantastica Magari ci saranno ancora Un paio di episodi Lo scopriremo insieme Andando avanti Signori Io spero che questo nuovo episodio Vi sia piaciuto Nel caso vi sia piaciuto Like Commento Condivisione Io vi saluto E vi ringrazio tantissimo Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Qui da Brutal Un salutone Bella raga Grazie a tutti